A me è piaciuto, è un altro Francesco. Io ci tenevo a farvela sentire per fare capire che non sono solo quello. Questo è un pezzo che sicuramente fa la differenza. Non è che ti dico che adesso tutto quello che farai va bene, però ti vedo con un occhio diverso, apprezzo quello che hai scritto, è un tema attuale, scritto in modo non stereotipato, non banale, è scritto in un modo emozionante e vero, da oggi in poi per me non sei solamente quello delle grasse risate, ma sei anche uno che pensa, scrive e che sa raccontare una cosa. Grazie, hai fatto molto bene a chiamarci, è un bel segno di maturità e di coraggio.